ovviamente di tenere. Buonasera a tutti, tutte e tutto, primo appuntamento trasfeminista del nuovo anno 2022, con noi c'è Marcella Corsi, professora di Economia all'Università della Sapienza, che ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, questo laboratorio sarà condotto da Maria Castronovo che ringrazio per aver lavorato a questo appuntamento e contenuti che appunto cercheremo di affrontare insieme. Abbiamo scelto questo titolo importante per noi, il tema della sorrellanza è un tema che questo spazio, che è lo spazio della rete donne trasfeminista di Archie Gay, sperimenta nella propria pratica trasfeminista quotidiana, quindi per noi la sorrellanza ha un valore, un significato molto importante, tra l'altro questo spazio di elaborazione politica, è uno spazio che nasce insieme alle sorelle e alle compagne di Nonuna di Meno Siena, che ringrazio perché vedo anche qui, quindi l'abbiamo costruito con la loro complicità e quindi siamo molto felici di annunciarvi che ci saranno tantissimi altri appuntamenti anche in questo mese e nei mesi che verranno. Da non perdere il prossimo, il 18 gennaio, La terra non è piatta, mondo LGBTQ+, femminili plurali e femminismi escludenti, con noi ci sarà una delle autrici Marta Palvarini e poi Comunarde, storie di donne sulle barricate, con noi ci sarà l'autrice Federica Castelli. Quello che ci piace fare in questo spazio è provare ad affrontare alcuni temi, a problematizzarli, ad attraversarli con lo sguardo che sapete che appartiene. Sto rubando un po' di tempo, sto un po' temporeggiando perché arrivano tantissime persone, quindi vi voglio veramente ringraziare perché ci state dimostrando di avere un grande interesse per questo spazio e per il lavoro politico che sta cercando di fare la rete donne trasfermista di RCK, dentro e fuori RCK. Vi chiederò di tenere silenziato il microfono, se poi non volete apparire visto che stiamo registrando vi consigliamo di oscurare anche la telecamera e di utilizzare la chat per fare le vostre domande, le vostre osservazioni perché ci interessa molto che questo laboratorio, come tutti gli altri, sia interattivo il più possibile. Così giriamo alla professoressa, alla professora Marcella Corsi tutte le vostre osservazioni. Grazie mille e passo la parola a Maria che introdurrà appunto la nostra ospite. Grazie mille. Grazie Natascia. Buonasera a tutti, tutte e tutto. Intanto vi do il benvenuto a questo nuovo laboratorio di questo nuovo anno, il primo di un ciclo che ci condurrà e ci accompagnerà fino a fine estate, fino a dopo estate. Io sono Maria e faccio parte della Rete Donne Transfeminista di Arcichei Palermo in cui attivamente lavoro con l'associazione sul mio territorio. Come sentite, sentirete dal mio accento, vengo da Milano. No, non è vero. Sono orgogliosamente siciliana e nello specifico appunto di Palermo. Prima di introdurre fare un bravo discursus sulla Rete e sulla professoressa che intanto voglio fare un ringraziamento super caloroso per aver accettato non solo il nostro invito, quindi grazie mille professoressa, ma anche per il lavoro magistrale che puntualmente fa sul territorio nazionale, ma anche a livello internazionale. E come dicevo prima, prima della registrazione, per avermi sopportato e supportato durante questa costruzione di questo laboratorio. Quindi professoressa, grazie mille per la pazienza. Insomma, vi faccio un breve discursus sulla Rete per chi ancora non ci conoscesse. La Rete Donne Transfeminista è un spazio aperto e plurale di confronto e di elaborazione politica di condivisione e socializzazione che promuove la visibilità, la presa di parole, l'autodeterminazione delle donne, della comunità LGBTQIA+, attraverso pratiche di esistenza e resistenza, volte alla costruzione quotidiana di relazioni che siano politiche e significative tra le donne e per le donne, ma in costante comunicazione con le altre soggettività. È portatrice di uno sguardo femminista-transfeminista che riconosce, include e rappresenta tutte le soggettività e identità, mettendo così facendo in discussione quella che è la cultura dominante cis-eteropatriarcale, maschilista e macista, l'eternonormatività e il binarismo di genere. Fa della lotta al patriarcato, al sessismo e alla misoginia e all'uomo-lesbo-bitransnegatività. Il suo pool cooperativo utilizza uno sguardo in prospettiva intersezionale, a partire dal riconoscimento della dimensione multipla della discriminazione. Come vedete dai laboratori transfeministe, ma anche da tutti gli eventi che promuoviamo, è un luogo di formazione ed autoformazione che promuove la collettivizzazione dei saperi e con questo obiettivo costruisce anche percorsi di empowerment, di divulgazione e informazione su temi specifici come quelli di questa sera, ovvero sulla sorellanza, sull'economia politica femminista. Io e la professoressa Marcella Corsi vi guideremo in questo meraviglioso mondo. vi presento il piccolo, piccolissimo lavoro, è una piccola biografia, che è della professoressa. Parliamo di un PhD conseguito in economia presso l'Università di Manchester, ha lavorato come ricercatrice presso Berlino e l'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura, come professoressa associata presso la LUIS. Nell'ambito della sua attività di ricerca si è occupata di analisi congiunturale in ambito reale, come può essere esempio mercato del lavoro, consumi di investimenti, progresso tecnico, innovazione nel settore pubblico e negli anni più recenti tematiche legate alla valutazione della ricerca economica specializzati nell'economia di genere. È tra le fondatrici dell'associazione Economia Civile e della rivista online in genere. Ha svolto attività di consulenza per diverse istituzioni internazionali, come la Commissione Europea, il Parlamento Europeo. È membro associato del Centro Europeo di ricerca sulla microfinanza di Bruxelles. Dal marzo 2017 dirige l'International Review of Sociology e presiede Minerva, che è il laboratorio su diversità e disuguiglianze di genere. Per chi non lo sapesse, è una piccola chicca. La professoressa fa parte anche delle 100 esperte, che è appunto una banca online, inaugurata nel 2016, che racchiude 100 nomi e 100 curriculum di esperte in quattro macro-arie, che sono la matematica, la tecnologia, la scienza e l'ingegneria, che, come sappiamo, essere settori storicamente sottorappresentati dalle donne, ma che al tempo stesso sono settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. Non per ultima, docente di economia politica presso la facoltà dell'Università della Sapienza di Roma. Ma, insomma, professoressa, cosa non fa? Cosa non fa? Veramente, me lo chiedo anch'io ogni tanto. Ecco, quindi una stella, diciamo, nel nostro panorama italiano. Allora, rompiamo il ghiaccio. Siccome per me il personale non può prescindere dal politico, e quindi il politico è personale, ma, scusate il gioco di parole, senza il personale, ovviamente il politico non esisterebbe, rompo il ghiaccio facendole una domanda un pochino anche più intima. volevo chiederle come e quando è arrivata a percepirsi come economista femminista? Nel senso, quando è che ha cercato e ha sentito quella spinta e quella presa di consapevolezza che ha iniziato ad essere differente all'interno della sua vita e del suo lavoro? Quella lente che le faceva vedere le cose in maniera diversa, se vogliamo dire. Assolutamente, mi sembra un'ottima idea iniziare così, perché è importante sottolineare che, almeno per donne della mia generazione, io ho 62 anni, non si nasce economisti e femministe, perché l'economia femminista, nell'ambito degli studi e delle ricerche economiche, nasce fondamentalmente poco più di 25 anni fa. nasce all'interno di un gruppo di economisti, sicuramente sensibili da tempo alla definizione di un nuovo paradigma economico, di un paradigma economico diverso da quello dominante, di cui poi sicuramente troveremo modo di parlare. Nasce prevalentemente negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, quindi per quanto mi riguarda è sicuramente un'eredità anche del mio percorso in Gran Bretagna, il mio percorso di formazione e di lavoro in Gran Bretagna e poi in Germania. nasce fondamentalmente con un'idea, che è quella di trovare dentro l'economia, quindi dentro la spiegazione dei problemi economici che tutti noi e tutte noi ci troviamo a vivere ogni giorno più o meno consapevolmente, un punto di vista femminista. Per quanto mi riguarda è stata anche una, è proprio per parlare quindi del personale, sono d'accordissimo sull'idea che il personale è politico, per me è stato anche un modo per incrociare la mia passione politica, cioè io sono femminista dal 1978, prima per chi conosce Roma e chi conosce il movimento femminista romano, prima a casa del governo vecchio e poi successivamente fino ad ora, diciamo, nella Casa Internazionale delle Donne del Buon Pastore, attraverso vari collettivi e varie attività svolte in questi lunghissimi decenni, più o meno, diciamo, coerentemente, anche più o meno continuativamente, perché poi la mia vita mi ha portato spesso all'estero e quindi ha creato delle discontinuità. però, quindi, questa passione politica, il mio essere femminista nella mia vita personale, finalmente trovava attraverso questo tentativo che poi ci ha portato fino ad oggi anche una sintesi con il mio mestiere, perché poi fare l'economista è fondamentalmente un mestiere, come tanti. Quindi, aggiungo però, aggiungo però, perché parlando di 25 anni fa, e ci stavo riflettendo in realtà proprio poco tempo fa, per chi per caso mi avesse visto, ho sentito, ho fatto una grande testimonianza in un TED Talk di giugno dell'anno scorso, in cui ho parlato proprio anche di sorellanza dal punto di vista della mia storia personale. Ecco, proprio nel fare questa, così, questa rielaborazione del mio percorso personale, mi sono accorta anche, però, che 25 anni fa io ho avuto una figlia. e quindi non credo assolutamente che, fra l'altro, fra poco ne compie 26 di anni, fra qualche giorno, e in questo momento mi sta ospitando nella sua stanza, perché è l'unica stanza tranquilla di tutta la casa. E quindi, in realtà, ho riflettuto poi che diventava anche un'esigenza ulteriore nell'ambito di una metamorfosi, che non soltanto coinvolgeva il mio corpo, ma anche il mio intero modo di vedere la vita e le sfide, che non erano, ancora una volta, non erano mie, non erano delle mie compagne, non erano dei miei collettivi, ma erano anche quelle di mia figlia, come nuova donna che entrava nel mondo. Quindi, sicuramente questa è stata una spinta personale anche molto forte, più o meno consapevole, devo dire, ma sicuramente va citata, se nell'ambito del personale. Ecco, questa è la prima risposta, così a caldo, alla tua provocazione sul personale. Grazie mille. Mia figlia si chiama Agnese. Ecco. Gran bel nome, professore. E non fa l'economista, sia chiaro. Non fa, meno male. Assolutamente, anzi, proprio la detesta l'economia. Ma fa l'attivista, così? Abbastanza, non quanto vorrei forse, ma comunque anche questo fa parte di un percorso personale, di consapevolezza. Assolutamente. Andiamo alla seconda domanda. Mi chiedevo, le statistiche di genere che per natura, no? I dati, per loro natura, dovrebbero essere neutri, no? Però, in realtà, la visione delle statistiche di genere, per quanto mi riguarda, dovrebbe garantire che la rappresentazione che i numeri danno della realtà non sia distorta da degli stereotipi. Possiamo volgarmente parlare, non lo so, di un femminismo di dati, no? Come anche lei cita nelle sue riviste online. E che quindi le statistiche di genere si debbano basare su concetti e definizioni che riflettono le diversità. Perché, come lei spiegherà meglio di me adesso, chiariamo che le statistiche di genere si basano, spesso e volentieri, su due assi principali, che sono il sesso, ovvero il sesso biologico dato alla nascita e il genere. Che di per sé, stiamo parlando di un costrutto che è assolutamente sociale, no? Quel ruolo che è la società, in cui la società ci ingabbia, no? E ingabbia sia uomini che donne, in questo caso. E che quindi, appunto, per sua natura è di per sé mutevole da periodi storici, da latitudini, da culture. E allora la mia domanda è, l'economia è davvero gender neutral come ci è stato spesso insegnato? O come ci è voluto spesso far credere, no? Ma ovviamente no, è una domanda retorica, immagino, la tua. Quindi, permettevi un passo indietro, prima di arrivare direttamente ai metodi di quantificazione degli aggregati economici, partiamo dalla teoria che in qualche modo li definisce. Quei famosi 25, oramai 26 anni fa, in cui l'economia femminista è nata, sono caratterizzati da una domanda molto semplice, semplice ma profonda, direi, e che poi ha dei connotati tipo epistemologico, teorico e quantitativo. La disciplina economica si basa sul semplice concetto che ogni singolo agente economico è un homo economicus. Vi sfida a trovare in qualsiasi trattato di economia dei padri fondatori, perché poi sempre di padri fondatori si tratta, un termine diverso da questo. Poi, ovviamente, è rimodulato a seconda dei casi, più o meno sensibili alle tematiche della diversità, che però non riguardano quasi mai le diversità di tipo biologico, ma magari diversità legate invece alla classe sociale e quant'altro. Quindi, questo homo economicus, che è l'agente economico rappresentativo, attenzione agli aggettivi che uso, chi è? Ma ovviamente, essendo una disciplina nata in Europa, in quel di, se parliamo uno dei grandi padri fondatori, Adam Smith, in quel di Edimburgo, cioè in Scozia, da parte di un filosofo, perché Adam Smith era professore di filosofia all'Università di Edimburgo. Quindi, parliamo di un uomo bianco, abbastanza benestante, non necessariamente ricco, perché se no non esisterebbero tutte le classi sociali, ma abbastanza benestante da poter avere piena libertà di scelta, perché se non avesse questa libertà di scelta, non avrebbe senso, nei nostri modelli, parlare di scelte razionali e di scelte ottime, come invece, ahimè, i nostri modelli sempre fanno. Quindi, bianco, relativamente benestante, ovviamente, quindi, europeo, tanto so che poi tu mi farai parlare di questo, nel tema della decolonizzazione. Quindi, tutti uomini grigi, come li avrebbe definito in letteratura, invece, un grande scrittore come Ende, a cui noi, chiaramente, non assomigliamo. Nessuno e nessuna di noi, intorno a questa, che io vedo in questo bellissimo mosaico di visi, assomiglia minimamente a quel tipo di soggetti. Tantomeno se ci allarghiamo e immaginiamo un grandissimo mosaico visivo per tutto il globo. Quindi, questa base della teoria dominante, capite bene, che non ci porta da nessuna parte. Eppure, è la teoria dominante. Quindi, il primo punto essenziale dell'economia femminista, quando è nata, è mettere in discussione questa ipotesi di base. Il che vuol dire riconoscere la diversità come un connotato su cui la teoria economica, invece, si deve basare, e su cui, ovviamente, modelli e dati, e adesso vengo al tuo approccio del dato, che citavi prima, invece, a cui devono fare riferimento. Quindi, se siamo tutti e tutte diversi e diverse, questo vuol dire che non ci basta neanche definirci soltanto biologicamente come uomini o come donne. Perché sappiamo bene che questo anche è limitante. E soprattutto è limitante il fatto di pensare che tutti gli uomini siano uguali, che tutte le donne siano uguali, e che il mondo, le persone, gli agenti economici, siano necessariamente uomini o donne. Quindi la diversità diventa una sfida dal punto teorico in primis, ma soprattutto dal punto di vista della quantificazione degli aggregati economici e delle famose statistiche a cui ti riferivi. Sempre poco più di 25 anni fa, in un grande passaggio politico che è stata la Conferenza delle Donne di Pechino, fu redatta una vera e propria piattaforma di indicatori di genere, ahimè ancora in parte da realizzare, e sono passati 26 anni, ma qualche cosa di buono si è fatto, adesso poi ne parliamo anche di questo. E questa piattaforma riconosceva non soltanto la necessità di, diciamo, disaggregare le statistiche già note, quelle armonizzate a livello internazionale, quelle su cui si basano i grandi rapporti delle istituzioni sovranazionali, su cui si basano le previsioni sul futuro dell'economia e quant'altro, non soltanto di disaggregare quegli indicatori per uomini e donne, che è comunque un passaggio importante da fare, perché è una prima forma di diversità che va riconosciuta e quantificata, ma poi anche di cambiare, spesso e volentieri, l'approccio con cui questi indicatori sono disegnati. E qui tiro fuori un'altra parola che in qualche modo diventa quasi un tabù in economia, che è famiglia, perché quei famosi individui di cui ho parlato finora, quelle uomini, quelle donne, per limitarmi solo adesso al sesso come connotato binario, però poi hanno un'età, ad esempio, sono giovani e anziani, possono lavorare o non lavorare, possono essere poveri o ricchi, e tutto questo noi come lo misuriamo? Ovviamente a livello individuale, ma come li costruiamo però, gli indicatori tradizionali? Basta parlare, ad esempio, dei consumi, no? Gli indicatori dei consumi, dei prezzi, o della povertà, o della disuguaglianza, beh, tutti questi indicatori vengono costruiti su nucleo familiare, senza forzare questo nucleo e senza entrare ad analizzare i singoli individui. Quindi quando, ad esempio, tu hai citato prima il mio articolo sul femminismo dei dati su in genere, ma ne ho pubblicato un altro di recente su che genere di povertà, ecco, quando parliamo di povertà, come stiamo facendo, ahimè, molto di questi tempi, perché sappiamo bene, adesso poi parleremo anche di questa crisi che stiamo vivendo, che cosa sta comportando dal punto di vista delle disuguaglianze e ovviamente dei rischi di povertà, beh, ecco, quando noi parliamo di povertà, ne possiamo parlare in termini quantitativi solo con dati familiari, ma in realtà questa è una forzatura, tenendo conto che si ipotizza automaticamente che dentro quella famiglia, dentro quel nucleo, tutti i soggetti, ancora una volta, siano equivalenti e che il reddito venga distribuito equamente fra tutti e fra tutte. Ma anche questa è una follia, è una follia solo pensarlo, eppure è quello su cui vengono costruite queste statistiche ufficiali. Quindi, per tornare alla piattaforma di Pechino, per tornare alla sfida del femminismo dei dati, non ci basta disaggregare gli indicatori sulla base del sesso o sulla base dell'origine e della cittadinanza o quant'altro, no? Noi dobbiamo spesso, per alcuni indicantori fondamentali, modificare l'unità di rilevazione, ma questo ovviamente comporta anche metodi statistici e fonti informative diverse da quelle tradizionali. Non a caso si parla molto di questi tempi, ne abbiamo parlato anche di recenti in un bellissimo convegno a Bologna organizzato dal titolo Dati per Contare, organizzato dal collettivo Period, ne abbiamo parlato lì perché ad esempio un tema fondamentale è quello degli open data, ad esempio, e quindi di rendere disponibili le informazioni a livello di cittadinanza per poter permettere un maggior raccordo anche tra istituzioni e cittadini. Ma ne parliamo dopo. Mi allargo sempre troppo. Ma assolutamente. Anzi, grazie per la generosità. E non ci dimentichiamo che spesso e volentieri, come diceva prima, questi dati di censimento vengono richiesti al capofamiglia o al capofamiglia che spesso e volentieri sono figure rappresentative e spesso e volentieri sono i padri, gli uomini che costituiscono quella famiglia che poi sono i detentori della... Il principale percettore di reddito. Indovinate chi è. Esattamente. Esattamente. Allora, proprio come accennava lei prima, parliamo di questo, di questo paradigma dominante, no? Come possiamo fare per cambiare quello che è il paradigma dominante e approfondiamo, come ci diceva prima, qual è questo paradigma economico che ci domina e che detiene la maggior parte delle ricchezze di un paese, no? Certo. E allora, dobbiamo ancora una volta parlare con i termini giusti. Questo paradigma dominante prende la forma anche di un modello economico e sociale che ha un nome che fa sempre tremare i polsi, ma che dobbiamo citare più volte. c'è un sistema capitalistico e patriarcale. Di questo stiamo parlando, che ci connota da più di quattro secoli. Quindi, di questo stiamo parlando. Di che cos'è il capitalismo e di che cosa va fatto per, a seconda degli approcci che si vogliono seguire, combatterlo, riformarlo, abolirlo. Va bene? Quindi, e su questo possiamo graduare, diciamo, anche a livello individuale le nostre preferenze e rivelarle, come dicono gli economisti, rivelare le preferenze. Questi sono i termini che vengono utilizzati nella nostra disciplina. Quindi, il capitalismo nasce sulla scia del feudalesimo attraverso, ovviamente, il grande impatto della rivoluzione industriale, quindi delle innovazioni che la rivoluzione industriale porta nel mondo della produzione, lo fa, come ci ha insegnato Marx, introducendo il sistema di fabbrica e modificando, in una forma apparentemente più democratica, lo sfruttamento che comunque viene, diciamo così, effettuato sui lavoratori. nella forma feudalale ovviamente era più estremo perché si parla di servi della gleba, si parla di soggetti senza alcun diritto, proprietà di chi ha il possesso e la proprietà dei mezzi di produzione. Nel capitalismo la cosa diventa un po' più complessa e sicuramente più anche articolata perché ovviamente il capitalismo è basato su tre grandi classi sociali, capitalisti che detengono il capitale, i lavoratori che detengono il lavoro e i redditieri che detengono come ci avrebbe insegnato Smith la terra, tutto il capitale immobiliare oramai siamo così, lo chiamiamo così, salvo che in Inghilterra dove è ancora la regina che detiene tutta la terra, questo bisogna sempre ricordarselo. quindi in questo modo più raffinato di rappresentare il rapporto tra chi detiene il possesso dei mezzi di produzione e chi ci lavora con questi mezzi di produzione ripeto nel capitalismo il lavoro diventa proprietà dei lavoratori ma ancora una volta questi lavoratori nella teoria economica hanno quello stesso aspetto di homo economicus che abbiamo citato di sopra quindi sia i capitalisti e sia i lavoratori sono maschi bianchi vivono in Inghilterra o negli Stati Uniti o in Europa e così via adesso ci scherzo ma insomma ci siamo già capiti e capiti quindi in questa tipizzazione delle classi sociali che ovviamente sono in primis classi produttive e quindi partecipano alla distribuzione del reddito che attraverso il capitalismo viene generato e parlo solo di reddito non parlo di ricchezza per semplificare le cose i lavoratori restano ancora un soggetto prevalentemente maschile quando noi abbiamo cominciato a cercare di rivoluzionare il paradigma quindi adesso comincio a rispondere scusate ho dovuto fare un po' un cappello ma se no non si capiva la mia risposta la tua domanda quando abbiamo cominciato a riflettere su come costruire un paradigma economico femminista e quindi alternativo ovviamente a quello che vi ho appena ricordato molto rozzamente non sono così rozzi i miei colleghi mainstream però li sto facendo rozzi soltanto per farveli capire più facilmente beh il primo problema ad esempio per noi è stato ridefinire il lavoro che cos'è il lavoro in un'ottica femminista beh il lavoro in un'ottica femminista guarda caso non è solo un lavoro retribuito cioè non è soltanto quel lavoro che trovate anche in Marx anche nei grandi teorici alternativi dell'ottocento nei socialisti rivoluzionari e quant'altro negli anarchici non è solo quello non è solo un lavoro retribuito è ovvio che per il lavoro retribuito bisogna lottare per dargli diritti e quant'altro ovviamente ma quando parliamo di uomini e donne basta quel concetto di lavoro no perché il lavoro delle donne è spesso invisibile è spesso chiuso dentro i nuclei domestici è spesso non retribuito ed è ignorato completamente ignorato dalla nostra disciplina quindi il nostro chi maldello nel ridefinire nel ridefinire il capitalismo è stato proprio parlare di lavoro non retribuito e cercare di valorizzare questo lavoro non retribuito il più possibile in primis per dare dignità al lavoro delle donne e poi per riconoscere a questo lavoro delle donne il valore che ha cioè un valore di cura e di riproduzione sociale quindi il nostro grimaldello dal punto di vista teorico ma poi anche dal punto di vista empirico è proprio la cura se volevi che arrivasse a questo termine ci sono arrivata non potevamo non potevamo esimerci dal parlare di cura ma anche un altro lavoro che secondo me è proprio una cosa che mi sta avvenendo spontanea in questo momento è anche quello di identificazione del fatto che proprio perché parlava poco fa dei suoi colleghi mainstream che non sono assolutamente rozzi tra virgolette come stavamo provando a sintetizzare per far capire meglio i concetti ma anzi c'è dietro un lavoro e uno studio che è enorme e che spesso e volentieri ci rende difficile identificarlo perché anche il capitalismo e la cultura patriarcale mi sento di dire che si sta evolvendo anche diciamo questa visione si sta evolvendo perché si sta adeguando a un'evoluzione storica che è incessante e necessaria come quella per esempio definiamola del capitale sociale che prima si riferiva a una cosa diversa rispetto ad adesso adesso parliamo di controllo dei social network di capitale e di ricchezza che noi traiamo da quello che è tutto il networking oppure di un capitale molto più complesso che è il capitale e la ricchezza che possiamo trarre dal sapere più un paese ha accesso a nuove tecnologie e a nuovi saperi più è ricco e più detiene certi poteri rispetto ad altri paesi ma anche all'interno del paese stesso rispetto alle proprie dinamiche di potere e quindi diventa ancora più difficile andare a riconoscerlo perché se ci aspettiamo appunto quegli esperti i rozzi mainstream di cui parlavamo appunto prima ci perdiamo anche un attimo tutta l'evoluzione che anche il capitalismo subdolamente sta avendo allora posso interromperti un attimo e fare una battuta allora per il capitalismo vale quello che vale per il femminismo cioè non bisogna mai parlarne al singolare non esiste il femminismo esistono i femminismi non esiste il capitalismo esistono i capitalismi non soltanto nella loro evoluzione storica ma nelle diverse forme ovviamente che noi abbiamo sperimentato più o meno crudeli più o meno più o meno invece accettabili più o meno liberali e quant'altro di diverso colore di diversa regione di diversa provenienza culturale e quant'altro quindi il capitalismo ha la grande capacità di rinnovarsi in continuazione in continuazione ma per fortuna anche il femminismo quindi questa battaglia va avanti ad armi pari sebbene su numeri chiaramente lo sappiamo insomma diversi no? e soprattutto su un potere finanziario diverso e allora ricominciamo un po' dall'inizio ma non dall'inizio dall'inizio soltanto dal punto in cui ci eravamo lasciati un attimo fa quando noi riconosciamo alla cura il ruolo rivoluzionario che ha perché infatti si parla di rivoluzione della cura perché lo facciamo ma perché la cura non è soltanto un'attività una prestazione di servizi la cura è la sfida alla logica del mercato che vede nello scambio l'origine della relazione fra tutte le persone e quindi fra tutti gli agenti economici perché è una sfida perché la cura come non solo come attività ma come modo di interazione tra persone tra soggetti umani o potremmo dire anche tra soggetti umani ed ambiente ad esempio perché questo è fondamentale oggigiorno nell'ottica dell'ecofemminismo è proprio un modo di sfidare il mercato alla radice perché la cura porta con sé attenzione ed empatia e questo poi piano piano ci porta verso la sorellanza o per meglio dire prima ho citato Adam Smith Adam Smith un po' da cattivella per l'origine della disciplina però Adam Smith che era un grande professore di filosofia davvero un grande professore di filosofia creatore della teoria delle emozioni esatto la teoria dei sentimenti morali esattamente cioè tutti lo ricordano per la ricchezza delle nazioni il titolo è ben più lungo ma insomma è abbreviato così come capostipide quindi ovviamente dei modelli economici che ancora studiamo ma lui in parallelo da grande filosofo qual era? scrive un libro meraviglioso che io consiglio sempre ai miei studenti di leggere una volta nella vita è un bel tomo massiccio così ma veramente molto bello che è la teoria dei sentimenti morali e lì già alla fine del settecento lui stesso riconosce che gli esseri umani hanno diversi modi di interagire sulla base di diverse tipologie di morale allora la morale implicita nel mercato quindi nel capitalismo più puro che è la morale del self interest lui la chiama così quindi noi potremmo tradurla semplicemente oggi in etica del profitto o non etica del profitto comunque è soltanto uno dei possibili modi economici di interazione fra le persone quello che la cura suggerisce come rivoluzione invece è quella che Smith avrebbe chiamato la morale della simpatia il che vuol dire che mentre per l'auto interesse si prendono decisioni che riguardano in primis l'interesse personale quindi se stessi nella morale della simpatia bisogna prendere decisioni di cui si valuta la ricaduta sugli altri e questo fa qualcuno che si occupa e che fa cura che si occupa di cura che sia il medico o la medica che si prende cura dei nostri corpi o delle nostre menti o che sia il contadino o la contadina che ci permette poi di avere beni agricoli commestibili sul nostro tavolo comunque ovviamente chi si prende cura dei nostri anziani chi si prende cura dei nostri bambini chi ci istruisce a livello o chi fa ricerca insomma tutte queste attività non possono essere fini a se stesse cioè io non faccio ricerca per me stessa io faccio ricerca per la ricaduta che tutto questo può avere per la società e per gli altri quindi questa morale della simpatia che si sposa con il concetto di cura in primis come tendenza verso gli altri come capacità di interagire con gli altri al di fuori della logica del mercato è la vera rivoluzione che noi economisti ed economisti femministi perché non siamo solo donne cerchiamo di proporre da più di 25 anni e tenete conto che siamo un'associazione internazionale l'International Association of Feminist Economics siamo distribuiti su tutto il globo ci riuniamo almeno due volte l'anno o virtualmente o di persona e cerchiamo di farlo anche in diverse parti del mondo perché questo se no vorrebbe dire ancora una volta concentrare la nostra attività soltanto in quei soliti luoghi noti in cui la disciplina è nata cresciuta e proliferata ecco professoressa torniamo al nostro periodo periodo storico e le chiedo possiamo parlare in questo periodo storico di crisi di genere rispetto alla crisi del 2008 che per chi non lo sapesse è stata una crisi profondamente legata al settore della finanza e che quindi ora come allora purtroppo il settore della finanza era abitato ed è abitato a maggioranza maschile riguardava più appunto il settore diciamo il genere maschile se vogliamo ricadere in questo in questo binarismo in questo momento è piuttosto che in questo momento storico la pandemia e quindi sono stati colpiti tutti quelli che erano il settore della cura il settore assistenzialista il settore dei servizi nel quale invece erano e vengono diciamo questi settori sono abitati a maggioranza femminile e quindi le chiedo possiamo parlare di una vera e propria crisi di genere in questo momento storico considerato che le donne europee sono le donne da statistiche accreditate e certificate le donne più povere e che questa pandemia spieghiamo anche il modo in cui questa pandemia ha impattato non solo sulle donne ma sulle famiglie ma anche sulle identità marginalizzate assolutamente sì allora comincio anche qui con una frase un po' più assolutista ogni crisi è una crisi di genere perché ripeto non siamo tutti e tutte o tutti uguali e di conseguenza una crisi non può impattare sulle nostre vite in modo uguale per tutti e per tutto e per tutto quindi ogni crisi lo è però bisogna vedere qual è la dominante di queste diverse crisi tu hai citato quella del 2008 e ovviamente adesso stiamo parlando della crisi legata alla pandemia allora la crisi del 2008 è stata definita anche nell'alteratura quella che noi chiamiamo una main session cioè una recessione al maschile non soltanto perché è scaturita da settori fortemente caratterizzati del lavoro maschile come i settori finanziari soprattutto ai vertici diciamo di questi settori troviamo sempre soltanto uomini in giacca blu o in giacca grigia che comunque riescono ancora una volta a guadagnarci anche dai fallimenti delle banche perché tanto loro escono con con delle buone uscite favolose anche quando stanno in realtà creando dei mali assoluti in giro in giro per il globo ma non solo per questo quindi ma perché in realtà quella è stata una crisi che per effetto della finanziarizzazione dell'economia se poi abbiamo tempo ve la spiego in due parole che cosa vuol dire questo termine è andata poi ad impattare successivamente in termini di perdite di posti di lavoro lavoro retribuito parliamo di lavoro retribuito in questo caso principalmente in settori ad alta segregazione maschile questo è il metallurgico ad esempio il metalmeccanico insomma i settori industriali tipicamente ancora sempre in modo molto rozzo quindi i posti di lavoro che si sono persi all'epoca come effetto della crisi finanziaria sono stati posti di lavoro tipicamente maschili e cosa è successo? Facciamo tutto il percorso perché poi l'analisi economica si deve diciamo sviluppare come un processo non è soltanto una fotografia temporale quindi che cosa è successo quando gli uomini quei famosi principali percettori di reddito quelli su cui si basano le statistiche hanno perso il lavoro beh ovviamente sono tornati un bel giorno a casa hanno detto sono in cassa integrazione oppure mi hanno licenziato mi hanno costretto a dimettermi come andiamo avanti? beh la moglie ha detto senti mi troverò un lavoretto e andrò a lavorare come donna delle pulizie come badante come cioè forme precarie di lavoro sottopagate magari anche la laurea oppure in un call center no? però fino a quel momento non lavorava perché stava a casa un po' per scelto un po' per condizionamento sociale a quel punto però ha detto vabbè mi troverò un lavoretto io ed è sicuramente più facile trovarti un lavoretto in un settore di questo tipo marginale dell'economia magari a tempo determinato o comunque a tempo parziale che ritrovarti un lavoro come operaio specializzato della Fiat o adesso ovviamente di quello che la Fiat è diventata quindi questo è successo che per molte famiglie non solo in Italia le donne sono diventate le uniche percettrici di reddito ma questo ovviamente ha redditi molto bassi e precari e questo ovviamente ha ingigantito la faccia la diciamo così la fascia diciamo così della delle classi meno abbienti ha creato disuguaglianza avrete sentito parlare no? si continua a parlare di questi indicatori di disuguaglianza il top un per cento della popolazione e via di seguito ecco ha enormemente incrementato la disuguaglianza tra ricchi e poveri però ha permesso alle famiglie di andare avanti cosa è successo adesso? perché le crisi si cumulano attenzione non è che è arrivata una crisi si cancella quella precedente non funziona così in economia eh? le crisi si cumulano quindi quello che è successo adesso è quella donna che aveva trovato il famoso lavoretta andando a pulire gli uffici alle 5 di mattina visto che quegli uffici adesso sono vuoti perché tutti i dipendenti sono in smart working hanno perso il lavoro e quindi la verità è che questa loro capacità di sostenere il reddito della famiglia quei famosi nuclei familiari che diventano oggetto delle nostre statistiche in molti casi sta venendo meno e quindi noi ci troviamo anche con classi piccolo-borghesi caratterizzate da famiglie che devono andare a prendere il cibo ai banchi alimentari cioè vivere di sussistenza questa è la realtà che noi stiamo sperimentando di questi tempi perché le due crisi si cumulano quindi la tua risposta alla tua domanda le crisi sono di genere? sì possono essere di genere diverso? sì perché quella che noi adesso stiamo vivendo è quella che tipicamente viene definita una sci-session cioè una recessione al femminile per il tipo di settore che ha colpito la ristorazione il turismo chi fa le camere in un albergo normalmente la mattina quando vi svegliano oh scusi lei è ancora dentro chi è che vi ha aperto la porta? o chi vi serve la colazione al ristorante come sempre nella mensa del lavoro o d'altro insomma sono tutti lavori ovviamente le commesse dei negozi insomma tantissimi esempi fino ad arrivare appunto ovviamente a quelle donne che puliscono i nostri uffici alle 5 di mattina ecco ripeto sono tutte donne quindi c'è stato un crollo un crollo drammatico tragico dell'occupazione femminile quindi ancora una volta parliamo di lavoro retribuito malamente retribuito ma retribuito con conseguenze ancora tutte da verificare perché ovviamente poi questo avrà un impatto nei prossimi anni tutto questo disastrose sui redditi delle famiglie e sulle condizioni di vita delle famiglie che hanno ovviamente all'interno ad esempio anziani e bambini quindi quello che sta succedendo ovviamente è che per gli anziani magari c'è ancora una protezione di tipo previdenziale ma i bambini forse stiamo davvero togliendo un futuro e non soltanto per la DAD come il nostro primo ministro ci ha tenuto ieri a ricordare ecco questo ci fa tornare un attimino a quelle che possono essere le azioni efficaci e che ora le chiederò su per quanto riguarda appunto il impegnarci un po' tutto a a ridistribuire quello che è come dicevamo il lavoro di cura all'interno dei nuclei familiari ma anche di tutto quello che è il nostro tessuto sociale quindi quali possono essere le azioni che noi possiamo fare efficacemente per ridistribuire quello che è il lavoro di cura perché ci rendiamo conto come anche lei sta confermando in questo momento che spesso e volentieri non solo il lavoro di cura ricade solo e solamente sulle donne ma è un doppio lavoro perché è spesso e volentieri un lavoro di cura sottopagato in tradotto in servizi all'esterno ma anche doppiamente un lavoro di cura non retribuito all'interno dei nuclei domestici non ci dimentichiamo che gli ultimi dati in stat ci riportano a una percentuale dell'86% di un lavoro di cura e servizi domestici da parte delle donne in Italia ma queste percentuali diciamo non si discostano di tantissimo dal panorama europeo in cui questi lavori vengono solo fatti dalle donne quindi come possiamo fare per andare a ridistribuire un po' meglio quello che è il lavoro di cura allora ehm scusa io faccio sempre un passo indietro dopo le due domande però voglio essere assolutamente chiara perché non so chi ci sta ascoltando quanto ha familiarità con tutto quello che stiamo dicendo quindi io ci tengo ad essere chiara fino in fondo allora intanto prima di porsi il problema di restribuirlo il lavoro di cura va riconosciuto ehm e questo non è un passaggio da poco perché questo vuol dire modificare gran parte delle norme sociali a cui tutti e tutte noi e tutto noi siamo ancora soggetti malgrado tutte le lotte femministe che ripeto mi vedono in particolare coinvolta da più di 40 anni ma che ovviamente datano secoli oramai va bene quindi il lavoro di cura ancora diciamocelo chiaramente non è ancora riconosciuto non è ancora valorizzato sicuramente non lo è nella mia disciplina non lo è nel mondo nella vita nelle interazioni tra gli esseri umani perché se succede che un uomo torni a casa e ammalsa la moglie soltanto perché non gli ha preparato la cena vuol dire che il lavoro di cura non è riconosciuto come tale e queste sono le norme sociali quindi noi ancora dobbiamo combattere le norme sociali che purtroppo non riconoscono il lavoro di cura come tale e questo è il primo passaggio poi se lo riconosciamo e noi sicuramente qui tutto le riconosciamo allora possiamo porci il problema della ridistribuzione questo è quello che noi chiamiamo il problema della divisione sessuale del lavoro all'interno dei nuclei domestici tu prima hai citato dei dati ovviamente ne potremmo citare tanti ma al di là del dare i numeri su cui ovviamente gli economisti sono sempre bravissimi a dare i numeri intanto chiariamo una cosa tu giustamente hai detto le donne sono soggette ad un doppio carico di lavoro malamente retribuito sull'esterno cioè sul mercato e sicuramente non retribuito e probabilmente non riconosciuto invece nell'ambiente familiare nell'ambiente domestico assolutamente vero è il classico overburden si chiama così in inglese a cui soggetti che si fanno carico della cura nei nuclei domestici è soggetto scusate il doppio termine soggetto soggetto a seconda dell'utilizzo mi scuso con Manuela essendo l'era linguista poi mi farà mi darà mi darà la pagellina alla fine scusate mi sono distratta quindi il primo punto quindi è la divisione allora su questo però io faccio sempre riflettere i miei studenti e le mie studentesse su questo quando noi pensiamo alla divisione sessuale del lavoro all'interno dei nuclei domestici spesso e volentieri poi la gente a che cosa finisce a pensare ma ad esempio al lavoro di cura nei confronti dei bambini e questo poi è molto presente anche nelle politiche si fa un gran parlare di questi tempi rispetto al piano di nazionale di ripresa e resilienza ad esempio dell'ingente a montare di fondi che verrà destinato agli asili di do i nostri media l'hanno sventagliato a destra a sinistra per vario tempo allora è quel lavoro che differenzia così tanto quel lavoro di cura nei confronti degli infanti ad esempio 0,3 quindi come anni di vita che caratterizza così in modo difforme uomini e donne all'interno dei nuclei familiari ma manco per niente vi potrei portare tantissime statistiche in questo senso è chiaro che le madri sicuramente si prendono più cura degli infanti di quanto lo facciano i padri ad esempio nella fase dell'allattamento o dello svezzamento cioè nella prima fase di vita degli infanti ma la vera differenza quando noi guardiamo le statistiche per fortuna abbiamo delle statistiche che ci permettono di farlo sono le indagini sull'uso del tempo la vera differenza nel carico di lavoro tra uomini e donne all'interno dei nuclei familiari sta proprio nel lavoro domestico tu cur cioè passare l'aspirapolvere mettere i panni dentro la lavatrice non dico lavarli con le proprie mani sull'asse di legno o al fiume come fanno in India no no mettere i panni nella lavatrice ok e cose di questo tipo andare a fare la spesa preparare la spesa la scena come ho detto prima è lì è su quel tempo lì che crollano che proprio si ingigantiscono le divisioni e crolla l'uguaglianza tra i sessi all'interno dei nuclei familiari e l'abbiamo visto guardate bene anche durante il lockdown in cui i padri improvvisamente hanno scoperto che era bello passare un po' di tempo con i figli ma non hanno ancora scoperto quanto è bello passare l'aspirapolvere non l'hanno ancora capito questo quindi è proprio su quello che le grandi differenze quel famoso overburden di primo il doppio peso del lavoro finisce col cadere e quando ne parlo con i miei studenti perché ho la fortuna di insegnare queste cose agli studenti di magistrale gli dico volendo anche riconoscere come fanno anche gli economisti mainstream che una madre parliamo delle madri sia più propensa a passare gran parte del suo tempo con i propri figli volendo ammettere questa innata tendenza delle donne a voler fare appunto prendersi cura degli infanti dove sta scritto come può essere spiegato questa innata tendenza delle donne a voler riempire la lavatrice o a premere un bottone della lavatrice e per quale stranissimo motivo gli uomini che sono sempre riconosciuti come i grandi campioni dell'ecnologia non hanno ancora capito come si accende un forno a microonde allora questa non c'entra niente con le tendenze naturali questo sicuramente non c'entra niente col sesso biologico c'entra sicuramente ancora una volta con norme sociali che ahimè un po' tutte e tutti noi ancora sopportiamo e in qualche modo ogni tanto pratichiamo chi più chi meno e questa è ripeto per tornare a quello che ho detto prima quindi la grande sfida quando parliamo di ridistribuzione come tu Maria mi hai chiesto di fare e allora tu mi hai chiesto mi sembra di ricordare perché mi sono un po' distanziata dalla domanda cosa è possibile fare per cambiarla questa distribuzione beh allora io dico sempre che mi piacerebbe vivere in Finlandia ma anche più vicino a noi in Svizzera e vedere che ai nostri bambini ai nostri bambini a scuola viene insegnato a stirare una camicia ammesso che ovviamente interessa di stirare le camicie però esisteva quando ero piccola una materia nelle scuole dell'obbligo fino alle medie che si chiamava applicazioni tecniche ai maschietti veniva insegnato a costruire con dei bellissimi meccano delle magnifiche creazioni gru cose così a me piaceva tantissimo io sono ancora una che va in giro con spesso e volentieri con martello non la faccia non ce l'ho ma il martello e il cacciavite spesso sì perché sono io che faccio i lavori in casa mio marito non sa neanche svitare una lavatrice non sa neanche svitare una lampadina e devo ammetto mi piace quindi è anche colpa mia perché mi piace farle queste cose mi piace attaccare i figli elettrici mi piace fare l'idraulico e cose di questo genere ma detto questo ripeto in Svizzera ai bambini non fanno fare il meccano e a me facevano fare il rigamo ovviamente quando ero piccolo io sono sempre stata negata per il rigamo non ho mai capito come si faccia sono incapace quindi ai bambini viene insegnato il ferro a fare la maglia viene insegnato a cucinare viene insegnato appunto ad apparecchiare la tavola a stirare e queste sembrano piccole cose ma in realtà sono rivoluzioni rivoluzioni della cultura quindi per tornare a che cosa si deve fare bisogna cominciare quando sono piccoli e piccole bisogna cominciare dalla scuola e modificare quindi in modo significativo i ruoli perché di ruoli stiamo parlando e di stereotipi a livello di educazione di istruzione poi quando sono un po' più grandicelli ovviamente dobbiamo creare situazioni di scambio di ruoli anche lì ma quando sono ancora più grandicelli arriviamo quindi al mercato del lavoro che ho citato prima bisognerebbe spezzare le famose barriere invisibili ancora una volta che non si sa perché impediscono le donne di iscriversi a ingegneria e impediscono però anche i maschi di iscriversi a pedagogia perché il problema poi è reciproco io vado nella facoltà di lettere e trovo solo donne trovo nella facoltà di ingegneria dove poi io insegno e trovo solo uomini c'è scritto da qualche parte che non si possa iscrivere una donna a ingegneria c'è scritto da qualche parte che un uomo non possa fare il maestro di asilo no eppure succede è così ce lo dicono ancora una volta le statistiche quindi da quando sono piccoli fino a quando sono decisamente più grandi celli dovremmo spezzare quelle barriere invisibili che limitano poi le libertà di scelta dei soggetti degli esseri umani nella loro totale diversità e renderli liberi questo è quello secondo me che bisognerebbe fare in primis ma questa è una battaglia culturale e sociale poi se vuoi parliamo anche delle ricette di politica economica ma mi sono già allungata abbastanza direi più che altro quello che spesso cerchiamo di dire e di ripetere continuamente è che i femminismi cercano di ripetere continuamente è che spesso e volentieri le gabbie di genere non sono semplicemente gabbie per le donne cioè quello che si prova a dire si prova a dialogare con le associazioni maschili a volte è proprio questo e dire guardate che il femminismo non è un movimento di liberazione solo per le donne è veramente un movimento di liberazione per tutti tutte e tutto da queste gabbie e comunque per quello che diceva prima in Finlandia e in Svezia la percentuale di dati statistici sul lavoro di cura tra uomo e donne è quasi allo stesso livello rispetto all'86% dell'Italia giusto per fare una piccola battuta e quindi professoressa ora andiamo al fulcro della situazione del lavoro di cura come possiamo far diventare questo quindi dobbiamo passiamo dall'astratto alla concretezza e quindi come facciamo a trasformare a far diventare il lavoro di cura un agente economico efficace per la crescita finanziaria di un paese oltre a come ha detto esattamente prima diciamo lei poco fa prima bisognerebbe riconoscerlo poi come lo facciamo in azione a farlo diventare un agente economico efficace per la crescita di un paese di un nucleo familiare insomma allora in realtà è già così solo che non lo riconosce la teoria dominante ovviamente perché in realtà senza il lavoro di cura la nostra economia non si riprodurrebbe questo è oramai direi il connotato principale dell'economia femminista dall'origine fino ad oggi oramai si sono sviluppati decenni di letteratura che lo dimostrano in Italia abbiamo un punto d'eccellenza nel lavoro di Antonella Picchio una mia collega un tempo dell'università di Modena ora in pensione da diversi anni ma insomma quindi il lavoro di cura è già la base della produzione del reddito della ricchezza perché senza quel lavoro di cura non si riprodurrebbe il sistema e per farla molto banale esiste un grafico che anche lì io mostro sempre ai miei studenti c'è una grande fabbrica in cui entrano riescono lavoratori ovviamente tutti rigorosamente maschili ma il ciclo si completa attraverso il passaggio di questi lavoratori dentro l'ambito domestico dove si vede appunto la donna che stira dei panni si crede la donna che fornisce il cibo ovviamente all'anziano come al bambino come al lavoratore che poi se lo porta dietro nella sua camella in fabbrica e quant'altro quindi se non ci fosse quel passaggio quel punto del ciclo il sistema non si riprodurrebbe né in forma semplice come diceva Marx cioè semplicemente in modo continuo né in forma allargata cioè con la possibilità poi ovviamente di aumentare il numero di lavoratori di lavoratrici e quant'altro quindi già è così solo che l'economia non lo riconosce ma di per sé è già così la cura è la base della nostra produzione senza la cura non ci sarebbe produzione né tantomeno riproduzione poi ovviamente al di là del dirlo sul piano teorico bisognerebbe ripeto riconoscerlo e riconoscere negli indicatori allora su questo e soprattutto ripeto farlo riconoscere nei comportamenti allora ci sono tutta una serie di politiche importanti in questo senso da un lato certi certi stereotipi vanno violati con diciamo con durezza con violenza ma nel senso in senso buono intendo dire con energia ecco scusate violenza è un termine che non mi piace utilizzare con energia quindi ad esempio per tornare a quel discorso delle mati e dei padri che facevo prima ai mati ai padri dovrebbe essere reso obbligatorio un percorso di cura dentro la famiglia almeno quando gli nasce un figlio o una figlia quindi congetto di paternità obbligatorio e non per 5 10 giorni per 3 mesi ad esempio come avviene per le madri obbligatorio così che loro debbano stare a casa e modificare le loro abitudini poi se in quei mesi se ne vanno al bar a bere con gli amici quello è un problema del rapporto di coppia ovviamente a quel livello noi non possiamo interagire però si spera che non sia così cioè che una volta obbligati a rimanere a casa se abbiamo magari la donna che ne approfitta per andare a bere qualcosa con le amiche e lasciare il padre a casa con il bambino quindi il congetto di paternità obbligatorio è un punto nevralgico questo è fondamentale poi ovviamente l'aiuto alla cura perché la cura deve essere anche aiutata parliamo tanto di digitalizzazione parliamo tanto di grandi innovazioni tecnologiche però in realtà le innovazioni tecnologiche nell'ambito della cura sono ancora troppo limitate e non sto parlando di robot che ci preparano la cena non sto parlando di questo sto parlando ad esempio di semplici elementi di domotica che potrebbero essere resi fruibili più o meno gratuitamente a tutte le famiglie per permettere di liberare il tempo di chi quel tipo di lavoro lo svolge all'interno dei nuclei domestici oppure questo è ancora più rivoluzionario ancora una volta cito però stavolta non la Finlandia ma la Svezia bisogna ragionare seriamente non tanto così per dire anzi più che la Svezia dovrei citare l'Islanda in particolare la pubblica amministrazione islandese e quindi dovremmo ragionare seriamente sul famoso slogan lavorare meno lavorare tutti perché anche questo è un'altra cosa che noi economisti femministi sta molto a cuore cioè quando nel pink washing che caratterizza spesso oramai la politica del politically correct per cui si dice povere donne dovrebbero tanto bisogno di trovare lavoro cerchiamo di aumentare l'occupazione femminile con contribuzioni sgravi fiscali bla 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 ma poi non si fa niente per liberare queste donne da tutti gli altri carichi di lavoro di cui abbiamo parlato fino adesso beh alla fine stiamo parlando di donne come degli animali da Soma cioè le donne devono solo lavorare devono lavorare nel mondo del lavoro devono lavorare a casa ma le donne non hanno il diritto dell'ozio ecco questa è un'altra cosa che secondo me è una grande battaglia femminista che secondo me andrebbe incentivata soprattutto di questi tempi perché quello che abbiamo visto con il lockdown ad esempio con i processi di confinamento è stato che alle donne è stato veramente tolto il tempo anche per farsi una doccia se non per dormire io ve l'ho detto io dormo poco di mio quindi non sto parlando di me lo sa Maria a cui ho risposto in ore incredibili quindi non è quello il problema non ne parlo per self interest ancora una volta ne parlo per morale della simpatia quindi sì assolutamente è ragione tutti hanno diritto all'ozio ma ne parlavo per le donne perché alle donne spesso proprio non viene neanche riconosciuto come tematica quindi le donne non devono soltanto è chiaro che devono avere più lavoro retribuito perché il lavoro retribuito è indipendenza economica è autonomia è capacità di scelta è emancipazione certo figuriamoci se io sono quella che dice il contrario ma non mi basta non mi basta non mi basta saperle occupate di giorno poi a casa straoccupate nella cura di chiunque abiti la famiglia a premere i bottoni della lavatrice o addirittura lavare i panni a mano e via di seguito non le voglio così le donne io le voglio libere le voglio aggiungo un termine che a me piace molto felici la felicità è un diritto di ogni essere umano lo è a maggior ragione delle donne quindi non pensiamo soltanto a come farle lavorare di più cerchiamo di farle lavorare di meno ma di dargli una vita felice e dignitosa caratterizzata da libertà di scelta questo per me è essere un'economista femminista sempre per tornare al discorso insomma a quello che è un dominio di potere ovvero un dominio sul tempo che poi crea concretamente delle disuguaglianze di genere è stato dimostrato che il prezzo dell'istruzione o quando non ne potete più ditemelo perché io vado avanti all'infinito a proposito ci stiamo dilungando un po' di fiume ora andiamo verso a quest'ora no? no lo dico per loro perché poverini poverine le vedo un po' ho provato oramai facciamo sempre cerchiamo di rimanere sul range di un'ora un'ora e mezza sì no ma per me non c'è problema per me è un piacere essere con voi figuriamoci tanto io tutta la notte professoressa mi sa anche lei anche io voi siamo in due ecco quindi le diciamo è stato dimostrato che l'accesso all'istruzione è spesso volentieri e quindi il prezzo per le donne è molto più alto perché poi l'inserimento lavorativo è molto più difficoltoso quindi ci accorgiamo e notiamo sempre questa diseguaglianza che spesso lo detiene detiene il dominio del tempo e che crea queste diseguaglianze di genere tutte allora quindi professoressa per lei avere uno sguardo femminista come ha detto prima no su quali paradigmi si deve fondare su su quali paradigmi dobbiamo fondarlo e così introduciamo anche il tema della cura ovviamente così introduciamo anche il tema della sorellanza no ah certo ancora non abbiamo parlato in effetti siamo solo a metà signore e signori siamo alla fine quindi avere uno sguardo è un'economia con uno sguardo femminista no quindi introduciamo il tema della della sorellanza io vorrei che intanto ci dicesse perché in realtà è una pratica che è a genere non ha genere come diceva lei in tante interviste e in tanti scritti è uno stato dell'anima è perché è così è perché è così importante rivendicarlo questa sorellanza rivendicarla questa sorellanza per un reale cambiamento economico e non solo e soprattutto domanda forse un pochino più pesante no io la sento molto le minoranze le donne le identità marginalizzate riescono a riconoscersi sorelle in queste battaglie allora per chi per caso avesse visto il mio TEDx call sa già come ho iniziato quella 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 conversazione con chi era con me in quel di Reggio Emilia io ho dato di me una bellissima immagine che era l'immagine della rivoluzione francese una bella donna che sventolava la bandiera della Francia liberata dall'oppressione del tiranno quindi del sovrano e ho iniziato citando quindi il famoso trittico della rivoluzione francese eh libera te cali te fraterni te beh e io provocatoriamente ho chiamato il mio il mio motto libera te e ovviamente di libertà ne ho parlato tanto stasera e cali te ovviamente ne parlo sempre ma il terzo termine che a me piace è soite cioè sorellanza ma dove sta scritto che deve essere fratellanza e quindi la mia domanda è molto provocatoria in quella sede come qui per riprendere la domanda di Maria ma perché dobbiamo quando parliamo di un senso di comunità del riuscire di affare gruppo del riuscire a lottare insieme parliamo di fratelli perché parliamo di fratellanza allora possiamo parlare invece di sorellanza su questo ci batte persino la chiesa cattolica il papa si rivolge ai fratelli e alle sorelle nessun politico lo fa mai neanche democristiano quando io l'ho conosciuto i democristiani adesso ci stanno ancora sono nascosti ma io l'ho proprio visto ecco cioè quindi parliamo di sorellanza cosa sarebbe stata la rivoluzione francese dal punto di vista dell'impatto sui modi di vita sui costumi sulla politica sulla cultura sulla lingua se quella volta invece di scrivere fratelli tesi fosse scritto sovi te secondo me sarebbe cambiato il mondo veramente sarebbe cambiato il mondo e le donne sulle barricate anzi io voglio venire a sentire comunarde che è un libro bellissimo leggetelo tutti è meraviglioso quindi piccolo ma bellissimo piccolo come il libro di Emanuela ma bellissimo anche quello quindi le donne sulle barricate ci sono sempre state e non soltanto per caricare i fucili di chi stava no no ci stavano e sono morte su quelle barricate sparando quindi parliamo di sorellanza va bene questo è la mia è il mio punto di partenza detto questo però la fratellanza come la sorellanza non cioè facciamo diciamo così una riduzione di questo termine se la pensiamo soltanto sempre collegata ad un sesso biologico cioè per essere sorelle bisogna avere la figa e per essere fraterni bisogna avere il pene ma no ovviamente ma dove sta scritta questa cosa ma è una follia se fosse così sarebbe una follia non abbiamo guadagnato niente la sorellanza come la fratellanza è uno stato dell'anima è una capacità simpatica ancora una volta ha cito Smith come ho fatto prima perché poi alla fine saranno sempre ad essere un economista una rozza economista che ci permette di creare un mondo in cui io non devo per forza danneggiare il mio vicino per poter vivere bene e guardate che ci sono tanti esempi in economia in cui questo è possibile l'economia circolare l'economia cooperativa potrei starvi qui a parlare per ore di modelli in cui tutto questo si realizza tutti i giorni e spesso le donne ne sono protagoniste molto più protagoniste di quanto non siano nell'economia di mercato in cui invece spesso sono solo sfruttate a casa e fuori e mal pagate e poi ovviamente violentate e uccise quindi quindi un altro modo di fare economia un altro modo di pensare il mondo un mondo basato sulla sorellanza se è possibile non c'è bisogno di chiudersi in un convento o di fare appunto come piacerebbe forse fare a me un tempo un giorno di rinchiudersi d'anziane dentro un bellissimo centro di co-housing femminile alla Babayaga come avviene in Francia non c'è bisogno di arrivare a forme così estreme è la vita quotidiana di ognuno di noi di tutto quindi la sorellanza è uno stato dell'anima sì lo ribadisco e non ha niente a che vedere con gli attributi sessuali delle persone che la praticano ci credo profondamente l'ho sperimentato su di me si sente e penso che anche diciamo la maggior parte delle persone che sono qui presenti hanno avuto vedo tante persone che vogliono fare domande lasciamogliele fare perché sennò davvero dobbiamo favorire infatti a parte che devo dire che il chat le stavo dicendo che le persone stancabili stanno apprezzando tantissimo e avrebbero vorrebbero continuare quindi io sono molto contenta di questo evidentemente sta passando qualcosa di meraviglioso e di questo sono sempre sempre meravigliata perché non è non è un sogno proprio è un sogno di scrivere un libro sulla sorellanza mi piacerebbe moltissimo se mi aiutate a raccogliere storie di sorellanza vissuta indipendentemente dal sesso scriviamoli insieme questo libro è tutto un libro tra le poche cose che fa professoressa mettiamo beh vabbè che vuol dire mettiamoci mettiamoci anche questo io mi offro volontaria per darle una piccola manina andiamo in in chiusura professoressa l'ultima minuscola provocazione domanda che in realtà non lo è nemmeno sto avendo un po' per tradizione faccio a tu vuoi parlare di sud vuoi parlare di mezzogiorno no 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 vediamo un attimo l'attenzione e la pesantezza che ovviamente questi temi giustamente non per per loro natura portano con questo piccolo aneddoto io ho fatto delle altre domande che qui non vi non vi posterò e non non chiederò alla professoressa che io ti avevo detto che era troppa gare sul fuoco sennò saremmo andate avanti fino a mezzanotte perché saremmo andate avanti fino a domani mattina facciamo la seconda puntata esatto esatto e chi vuole diciamo insomma esplora soprattutto io che sono del sud e che quindi questa questione la questione meridionale ce l'ho molto a cuore di cui appunto dicevo la professoressa spesso e volentieri anche nei femminismi non si affronta mai non si parla mai ma che secondo me può essere uno strumento molto utile per permetterci di non scadere poi non lo so delle minoranze che all'interno creano delle altre minoranze che poi diventi questa 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 riproduzione di paradigmi dominanti nelle quali appunto siamo sempre stati immersi tutti proprio dalla nostra nascita e che poi nostro malgrado anche i femminismi non sono esenti e quindi a volte io ho visto si riproducono donne bianche privilegiate che non non hanno uno sguardo intersezionale come magari lo stiamo avendo anche noi stasera e che non si prendono carico di questioni come può essere la questione meridionale piuttosto che la questione delle donne nere piuttosto che delle donne nell'islam eccetera eccetera e che ogni volta rimangano punti spigolosi e conflittuali anche all'interno dei femminismi e che poi ci fanno riprodurre delle dinamiche di potere che in teoria dovremmo decostruire però essendo appunto un delle tematiche abbastanza ampie che ci hanno però fatto problematizzare anche insieme alla professoressa le faccio solo un'ultima provocazione e chiudiamo se avesse domani la possibilità di svegliarsi in un mondo nuovo possibile come se lo immaginerebbe professoressa se potesse scegliere lei non mi sveglio no ma a parte gli scherzi se potesse scegliere lei in che mondo svegliarsi da domani come se lo immaginerebbe allora guarda sempre per citare quel famoso TEDx talk che ho fatto no e su cui ovviamente ho lavorato tanto ho lavorato anche insieme alle altre persone che con me quella sera erano a Reggio Emilia ancora una volta prima ho parlato del motto della rivoluzione francese ma sempre parlando del mondo culturale francese citando una persona che credo tutto omiamo cioè Simone de Beauvoir quella sera ho detto lei diceva donne non si nasce si diventa e io dico sorelle non si nasce si diventa e qui è la grande importanza della pratica cioè il femminismo non è soltanto filosofia non è soltanto economia non è soltanto politica il femminismo porta con sé un cambiamento radicale è l'unica grande rivoluzione che ancora non è finita ma non è stata neanche soffocata e parte ovviamente dalla pratica cioè il femminismo è pratica noi qui stiamo facendo pratica femminista stasera io sono entrata nel femminismo con i collettivi di self help dove facevamo qualcosa di rivoluzionario che adesso le nostre cioè le teenager di adesso non si sono cioè si vergognano soltanto quando lo racconto cioè ci tiravamo giù le mutande ci mettevamo uno specchietto in mezzo alle cosce e ci guardavamo la vulva e quella è una rivoluzione quella è una rivoluzione perché nessuna di noi sapeva come eravamo fatte lì sotto e molte delle ragazze di oggi non sanno come sono fatte lì sotto per gli uomini è più facile basta guardarsi allo specchio e via quindi nel nostro caso c'è stato un bellissimo documentario anche una una nuova storia di recente di una cioè recente qualche anno fa insomma di una fumettista svedese insomma c'è tanta letteratura in questo momento anche a livello più divulgativo che parla di questo insomma di questa incapacità ancora delle donne di riconoscere la parte diciamo sessuale come un connotato del proprio corpo ecco quella era una pratica era una pratica rivoluzionaria ed era una pratica che però faceva emergere il fatto di essere tutti uguali perché questa poi è la cosa fondamentale che noi eravamo tutti uguali eravamo lì con tante storie diverse più o meno giovani più o meno fricchettone perché stiamo parlando della fine degli anni 70 quindi le mie le mie compagne femministe della prima della prima generazione verso il 68 sembravamo delle militari noi arrivavamo lì con i cappelli i fiori e ci detestavano per questo ci consideravamo delle 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 fricchettone senza senso però alla fine quando ci tiravamo giù le mutande eravamo tutti uguali quindi io voglio un mondo in cui si riconosca la diversità come un valore ma allo stesso tempo si dia alla diversità il significato che ha cioè la capacità di riconoscerci per ciò che ci accomuna ma anche di rispettarci per ciò che ci differenzia e quindi e quindi ovviamente mi piace anche un'economia in cui tutto questo venga valorizzato io sono una grande ma soprattutto vorrei svegliarmi in un mondo in cui finalmente si capisse che eh le nostre azioni incidono non soltanto sugli altri ma incidono sul sul pianeta questa pandemia è la grande occasione per capire finalmente quello che diciamo oramai da decenni e che il capitalismo ci sta distruggendo il pianeta quindi vorrei un'economia sostenibile fatta e basata sulla diversità e un'economia in cui ad esempio la produzione non corrisponda necessariamente alla distruzione di tutto ciò che ci circonda vorrei svegliarmi un giorno e e trovarmi in questa specie di paradiso sono abbastanza anziana da aver perso un po' la speranza però io confido sempre sui giovani e sui giovani quindi continuo a sperarlo almeno per loro ce la faremo conquisteremo tutto allora finisce sempre nell'utopia quando si parla di sogni ma i sogni sono fatti per questo eh ma bisogna bisogna puntare in alto secondo me per poter arrivare anche solo a verte un pochino più più alte insomma allora ci sono degli interventi e Will e Anastasia mi sembra che si fosse prenotato prima Will ok si scusami lui l'ha scritto da un sacco di tempo poverino ciao salve buonasera io sono arrivato da poco si può dire prima era un altro incontro però appena sono arrivato Marcello ha sentito comunque quello che stava dicendo su riguardante riguardante lavoro è vero io sono proprio la persona che ha qui che è laureata in lingua che sta specializzando in un'altra laurea in lettere quindi proprio l'esatto contrario che vuole insegnare quindi tutto ok però è è è esatto ma io infatti adesso lo dico il riguardante la questione del lavoro secondo me per quanto riguarda sia le donne sia gli uomini e sia anche le persone del terzo genere non è il fatto che nobilità perché no è un'indipendenza anche come emancipazione cioè io se lavorerò al più presto speriamo per me sarà un'emancipazione non solo economica ma anche per capire esattamente io che chi sono veramente su tutti i fronti che adesso non voglio dire qui perché gli incontri vengono registrati però comunque è quello è è un'emancipazione verso anche il resto delle cose cioè se io esco e posso difendermi di più se succede qualcosa non solo lavorando ma anche continuando le mie attività associazionistiche perché io credo che indipendenza mentale economica e con le attività associative riguardando i propri diritti vanno di pari passo è come se si fosse si completasse l'emancipazione personale quello non so se mi sono spiegato penso che sia così anche da con me da alcune esperienze che ho vissuto e che vivrò e quindi questo poi riguardo al fatto delle donne che sono sempre occupate in tutto bisognerebbe cercare sì un equilibrio come ad esempio io quando lei ha detto del si accina il congelo della paternità se non erro c'è proprio una serie tv spagnola in cui si parla ad esempio proprio su questo di un ragazzo padre e credo sì in Italia su questo purtroppo però siamo comunque ancora indietro perché ogni cosa è vero ragazza madre viene affidata tutta no si dovrebbe essere secondo me un equilibrio comunque tra tutte e due le persone e poi un'ultima cosa poi interrompo qui sì la solleranza e la fratellanza non dipendono appunto dagli organi genitali perché io sto anche ultimamente studiando per per altre cose che appunto una cosa anche il sesso è una cosa è anche l'identità di genere sono due cose distinte e separate cioè io assolutamente sì io che per carità ho 27 anni un altro po' e non non è che ne ho mille però io delle cose nemmeno io le sapevo le sto imparando e le condivido grazie comunque all'associazionismo scopri chi sei veramente te e scopri e altre altre bellissime cose che prima non si sanno perché chi è che le insegna nessuno sì il concetto di pratica che dicevo prima infatti sì perché purtroppo noi viviamo secondo me di teoria solo di teoria non esiste la pratica non esiste lo spirito pragmatico cioè io ho fatto una tesi sul diciamo sul sull'uomo abilessi per la sfobia nel cinema contemporaneo soffermano i miei effetti sull'idea di genere e sull'identamenti sessuali però sono argomenti che ancora non vengono del tutto come dire accennati questo grazie mille Will grazie a lei grazie a tutto grazie mille Anastasia volevi dire qualcosa sì io ho una domanda in realtà un po' tecnica che riguarda l'economia femminilita io diciamo nel mio percorso di studio ho approfondito per un esame ho fatto ho studiato economia nel mondo antico uno dei problemi principali che ho riscontrato nello studio del mondo antico dal punto di vista economico è il fatto che in categorie economiche moderne e occidentali soprattutto difficilmente si applicano al mondo antico mancano alcuni concetti base proprio anche a livello linguistico ad esempio nel mondo antico questa cosa mi ha fatto pensare e soprattutto tra le varie cose le varie soluzioni a questo problema c'era anche l'idea di cambiare il paradigma economico e di correre ad altre forme di teoria economica diverse ad esempio una proposta era la teoria istituzionalista quindi la mia domanda è semplicemente questa l'economia femminista affronta anche anche l'economia sotto questo aspetto ad esempio ricercando forme di teorie economiche che vanno che non sono diciamo standard classiche diciamo così va oltre anche il paradigma dell'economia classica allora guarda purtroppo ho sentito male ho capito però quest'ultima parte che dicevi allora ovviamente io ho parlato di alcuni elementi dell'economia femminista l'economia femminista è un'economia che si muove a 360 gradi sulla disciplina ovviamente parte dai presupposti quello che ho citato prima quindi era la critica dell'home economicus l'altro era la ridefinizione del concetto di lavoro e in particolare la valorizzazione del lavoro non retribuito poi ho parlato ovviamente di stereotipi ruoli sociali lavoro di cura e quant'altro ma non è soltanto questo ad esempio te che sei appassionata di modelli economici c'è tutta una componente del femminile dell'economia femminista dedicata alla cosiddetta macroeconomia femminista e che riguarda ovviamente ad esempio il ruolo delle istituzioni il ridisegno del ruolo dello Stato e quant'altro quindi è davvero un approccio a 360 gradi ci vorrebbero molte 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 ore per poterlo discutere ma se sei interessata basta in realtà che mi scrivi una mail e ti posso dare indicazioni anche di lettura su questo se ti interessa approfondire è sicuramente un altro elemento che è importante dell'economia femminista e che mi sembra di aver sentito nella tua domanda ripeto ti chiedo scusa perché sentivo male è la capacità di interagire con altre discipline ma non è soltanto dell'economia femminista ovviamente di tutti quelli che noi possiamo chiamare modelli eterodossi rispetto all'ortodossia invece mainstream gli economisti tradizionali ritengono che l'economia sia una disciplina a sé stante spesso e volentieri la formalizzano a livello matematico in modo esasperato proprio per allontanarla il più possibile da discipline come quelle sociali con cui invece l'economia naturalmente deve e può dialogare l'economia femminista è l'opposto cioè ha nel suo DNA la interdisciplinarietà nell'ambito delle nostre conferenze ma anche c'è una rivista che ci caratterizza più di chiunque altra che è la rivista Feminist Economics ma in Italia nel nostro piccolo può essere il nostro webmagazine in genere .it se ci leggi ti rendi conto che noi anzi non rifugiamo affatto ma cerchiamo quelle che io chiamo le contaminazioni con le altre discipline che non sono soltanto le discipline sociali e in primis ovviamente la sociologia la politica ma sono le contaminazioni con le metodologie e questo mi riporta al discorso sul femminismo di dati che citava anche Maria come sono in primis il collegamento fondamentale con la storia cioè nessun modello economico può essere analizzato in modo pastorico quindi economia e storia così come economia e filosofia e morale sono strettamente connessi non possono essere dissociate e invece questo sicuramente fa parte del DNA dell'economia femminista certamente ne trovi ben poco nell'economia tradizionale non so se ho risposto alla tua domanda ma ci ho provato diciamo così diciamo cercherò di approfondire la cosa scrivimi non prima delle undici e mezza di sera assolutamente no la sua riunione prima allora leggo in chat verdeacqua che diceva femminismo e maternità fuori dalla coppia uomo donna del due no dal due maternità di singole è ruolo sociale il femminismo anche solo quello romano sa che parlava del femminismo romano dell'attivismo che faceva negli anni settanta ottanta il femminismo anche solo quello romano ha supportato le madri singole nell'autorevolezza della loro scelta quando faceva attivismo lei professoressa si ricorda se il femminismo romano supportava le scelte delle madri anche single che non prevedesse il due ma ovviamente l'attivismo lo faccio ancora non parlatene al passato perché mi fate sentire vecchia non lo sono per niente almeno non mi ci sento come tale al di là dei capelli bianchi che però mi sono venuti presto quindi anche perché ho avuto un carcinoma quindi dovendomi fare una bella chemioterapia che i miei capelli sono diventati bianchi subito no adesso a parte i riferimenti personali il tema della madernità ovviamente è un noto cruciale nel femminismo quello che personalmente ho sempre sentito più mio dell'attivismo femminista e che non necessariamente quindi si cala nella mia storia personale visto che vi ho già detto che sono madre non soltanto di Agnese ma anche di Eugenio che è il mio secondo genito quindi per parità ho fatto un maschio una femmina così non ho fatto discriminazioni neanche in quell'ambito ma è il tema fondamentale del destino cioè io mi sono sempre rifiutata e continuo a rifiutare la maternità come un destino cioè le donne non devono necessariamente essere madri al di là della teoria riproduttiva che ovviamente esiste anche in economia le donne non hanno questo destino è chiaro che dal punto di vista della dotazione naturale come direbbero gli economisti sono favorite ma ciò non toglie che quella famosa libertà di scelta che abbiamo enunciato prima deve valere anche e soprattutto per i diritti riproduttivi e di conseguenza questo ovviamente poi nel femminismo non soltanto quello romano ma in generale ha portato alle grandi battaglie per l'aborto ha portato in generale alle battaglie per le scelte consapevoli in ambito riproduttivo e sulla sessualità quindi io questo l'ho sempre sentito parte della mia pratica femminista da quando ci sono entrata in tutte le varie fasi in tutti i vari paesi anche in cui l'ho espletata non so se ho risposto alla domanda ma questo è quello che mi viene in mente di bambini a dir la verità non ne ho mai visti troppi in giro per le case anche se ad esempio a Roma alla Casa Internazionale delle Donne esiste il circolo anzi il circoletto che è proprio un'associazione all'interno del consorzio Casa Internazionale delle Donne che si occupa ad esempio anche di prestare servizi all'infanzia quindi non è non è ovviamente negato tutto questo però essere sinceri insomma non è che non la vedrai come una dominante ecco non ho mai visto tanti bambini scorrazzati per le case né al governo vecchio né alla casa adesso poi siamo tutte vecchie principalmente quindi al massimo sarebbero i nipotini più che i figli questo è un grosso problema eh il rapporto intergenerazionale del femminismo è un grosso grosso problema ma non ne parliamo stasera questa è la terza puntata ecco andiamo in chiusura ci sono tanti tanti commenti che la ringraziano per la sua piacere mio lo spacchiamo questo patercato sono super d'accordo ovviamente sì posso scusate posso inserirmi un secondo perché volevo fare una una riflessione che poi su cui magari se ha voglia la la professoressa può cioè può darmi una una risposta una considerazione da parte sua io ho fatto un ragionamento su su quanto la sorrellanza sia tutt'altro che una pratica scontata diciamo tra tra le donne e e sul fatto che i femminismi ovviamente lo abbiamo già accennato prima hanno anche sperimentato delle come dire delle distanze tra gli scarti che in alcuni momenti sono sembrati anche incolmabili tra il femminismo di cui erano portatrici soprattutto le donne privilegiate bianche insomma borghesi e e tutti gli altri femminismi che adesso stiamo sempre di più riscoprendo io lo dicevo poco fa in chat ho appena letto il femminismo delle zingare l'ho trovato illuminante perché appunto ho scoperto che le pratiche sono completamente differenti proprio le pratiche politiche e stavo pensando che la classe e la razza sono sempre state una linea di demarcazione piuttosto chiara quella che sperimentiamo noi come comunità LGBT qui a un plus nella nostra prospettiva trasfeminista è che l'identità di genere sta diventando un'altra linea di demarcazione che rende impradicabile la sorellanza in alcuni contesti purtroppo sì l'abbiamo visto con il DDL Zan purtroppo esatto penso che tra le donne cise e le donne trans la sorellanza non sia un fatto scontato ma un fatto che si costruisce soprattutto in questo spazio chi lo abita lo sa noi ne facciamo una bandiera e un manifesto però abbiamo le nostre belle difficoltà con una parte del movimento anche l'esbio femminista rispetto ai loro posizionamenti transescrudenti ecco ho trovato molto interessante che l'identità di genere nei giorni d'oggi sia diventata come dire l'arma attraverso la quale si costruisce questa distanza o l'argomento attraverso cui si costruisce questa distanza quando prima lo era appunto la razza etnia e la classe soprattutto che segnava proprio una distanza difficile ecco da colmare questa è una riflessione che volevo buttare lì nelle nostre no e ovviamente non sono ragioni di più ma ripeto questo fa parte della varietà e della diversità anche all'interno dei femminismi no è ovvio sì il dibattito intorno al DDL Zanna e tutto quello che ne è scaturito per certi versi in certe fasi è stato abberrante nei confronti delle compagne trans veramente abberrante guarda come dicevo prima la famosa frase Sorale non si nasce ma si diventa e poi finivo anche quell'intervento dicendo Sorale di tutto il mondo unitevi e questo non è scontato l'ho detto proprio è registrato quindi non mi autocito ma semplicemente perché è una documentazione di fatto di come la penso e purtroppo non basta essere femministe o femministi per essere intelligenti e trovo che a volte ci sia proprio un problema di intelligenza di capacità di comprensione e non cioè io ho sentito dire cose incredibili no? ma come riconosciamo alle donne trans la nostra stessa natura e poi loro entrano nei bagni e ci violentano ma vedete delle cose veramente che tu dici ma come ma come fai a dire delle cose di questo genere cioè io non cioè non non so commentarle cioè non però ripeto eh l'ho fatto l'ho sentita anche dire da compagnie femministe che conosco da decenni e a cui posso al massimo decidere se continuare a dare il saluto oppure no però voglio dire non è che gli posso per questo cioè non ne faccio un problema del movimento o della pratica femminista ne faccio ancora una volta un problema di capacità di empatia e di comprensione della realtà io non so che altro dire devo dire veramente sono stata davvero molto molto male in quel periodo in tante chat di cui faccio parte ma anche diciamo nella pratica quindi negli incontri e quant'altro ho sentito dire delle cose che mai mi sarei aspettata di sentire dire da compagnie femministe è vero è così e d'altra parte guarda nella letteratura non in quella economica ma in quella politica negli stadionisti esiste tutto un ramo della letteratura che dice che si chiede perché le donne odiano le donne se vuoi quindi sì è un dato di fatto così come è un dato di fatto che sono delle stupidaggini tutti quegli stereotipi che dicono che le donne sono per loro natura più inclini alle relazioni tutte queste storie qua ma diciamo è sbagliato come dire che tutti gli uomini non lo sono cioè ritorniamo al discorso di qui sopra cioè la diversità deve essere un connotato da valorizzare e da tenere a mente sempre quando si fanno ragionamenti di questo tipo ma soprattutto deve essere la base su cui noi creiamo il rispetto e la convivenza se non c'è non andiamo da nessuna parte non andiamo da nessuna parte grazie c'è un'ultima domanda poi veramente andiamo in chiusura perché l'abbiamo spiancata grazie questa è una domanda importante l'abbiamo spiancata abbiamo spiancata anche tutte le persone qui piano piano ce ne stanno andando tutti e tutte e tutto siamo ancora numerosissimi numerosissimi insomma è stato un laboratorio molto molto intenso ma anche molto sentito ci sono tantissimi grazie la domanda è di Raffaela che dice è importante partire dalla cura e portare i sistemi di cura al di fuori dell'ottica e delle ragioni del sistema capitalista in che modo l'economia femminista si deve può occupare dello sfruttamento delle risorse della terra e dell'animale non umano ci può dare qualche spunto questa è una bella tematica su questo guarda devo essere sincera su questo le riflessioni sono tante ma allo stesso tempo anche un po' troppo fresche per poterle effettivamente diciamo prendere a non sono ancora diciamo messe a sistema mettiamo così comunque il discorso che facevo prima sull'economia circolare ad esempio è un modo di rispondere cioè economie che si basano sul riciclo sul recupero piuttosto che sullo sfruttamento delle risorse sono economie preziose da questo punto di vista c'è un bellissimo libro che io consiglio sempre che si chiama l'economia e cura è un libro piccolino pubblicato sempre per famosi i famosi libri piccolini parlando con studenti che in genere li leggono poi sui loro cellulari mi limito nelle dimensioni ma insomma questo è un libro piccolino ma se lo conoscete già sapete molto profondo è scritto da una persona molto contestata che è Ina Pretorius una teologa svizzera femminista quindi immaginate il personaggio è un libro scritto in tedesco in lingua originale perché lei è svizzero-tedesca è scritto in particolare poi sulla base di tutta una serie di riflessioni anche di collettivi tedeschi in particolare di questo collettivo network che si chiama l'ABC della cura che ha scritto un vero e proprio manifesto della cura molto molto bello è un libro pubblicato da altre economie in Italia davvero è una cosa che consiglio sempre di è un libro che consiglio sempre di leggere quando lo leggerete vedrete che in un passaggio che uso sempre anche in modo un po' provocatorio spesso alla fine non perché vi sto dicendo me ne vado ma perché adesso non ce l'ho qui con me se no ve l'avrei letto c'è tutto un passaggio sulla merdologia che proprio che sia un passaggio fantastico non soltanto per la capacità di provocare ma anche per la riflessione che induce cioè noi parlavamo di riciclo parlavamo di rifiuti parliamo del rifiuto per eccellenza del rifiuto umano per eccellenza cioè le feci quelle che noi tutti produciamo va bene non parliamo della plastica non parliamo della carta non parliamo delle mascherine buttate parliamo delle feci perché le feci sono un rifiuto che noi ci portiamo dietro organicamente no? allora pensate alla capacità delle feci di essere utilizzate in modo produttivo e riproduttivo perché diventano concime ci puoi costruire un intero ciclo economico sulle feci così come su altri scarti non lo so per chi ha partorito ad esempio sa l'importanza della placenta no? di come possa essere riciclata la placenta nel momento della ecco quindi ecco parliamo di di riuso di riuso di riciclo cioè pensiamo ad un'economia e a un modo di vivere ovviamente che non non si limiti o non non forzatamente sfrutti le persone le cose gli ambienti il mondo la terra il cielo l'acqua ma che piuttosto interagisca con tutto questo in modo virtuoso attraverso il riuso noi di questo stiamo facendo anche un lavoro fino a poco tempo fa era collegata adesso non so se è ancora qui con noi ma una mia carissima collega amica Giulia Zacchie con cui stiamo facendo un progetto in Africa in Uganda e in Tanzania e dentro la Tanzania Zanzibar proprio lavorando con ingegneri che si occupano del riuso e quindi e questo lo facciamo ovviamente in un'ottica di economia femminista questo è un modo per reagire ad esempio nell'interazione con il tema del cambiamento climatico con il tema ovviamente delle energie sostenibili in modo virtuoso e anche terodosso quindi anche questo fa parte di quel lavoro fatto per la costruzione di un altro paradigma economico ma sono solo esempi eh solo esempi grazie mille professoressa grazie a tutti per essere state con noi grazie per la sua generosità è vero che gli ospedali se ne vogliono tenere infatti bisogna chiederle le placente te le devono dare per forza infatti andiamo in chiusura sì direi che possiamo ringraziare la professoressa di essere stata con noi ringrazio anche te Maria per questa conduzione gli appuntamenti della rete donne trasfermista come sapete tornano ogni martedì praticamente quindi ricordatevi di rimanere con noi e di iscrivervi ai prossimi laboratori riceverete come sempre il link di accesso saremo con Marta Palvarini il 18 gennaio per presentare questo libro che è un libro collettivo a più voci sui femminismi plurali e i femminismi escludenti la terra non è piatta mondo LGBTQIA+, insomma non perdetevelo grazie mille e di nuovo insomma è nostro non arrivederci professoressa perché appunto l'argomento è talmente ampio che vale la pena approfondire quindi grazie ancora per essere stata con noi davvero spero di essere di nuovo con voi presto grazie mille state bene grazie mille grazie mille grazie mille